Tanti gli eventi e le manifestazioni culturali che allieteranno le feste di Natale nella città di Sansepolcro. Ne parliamo con Michele Foni, responsabile del personale della cooperativa Labbadiale che gestisce l'ufficio turistico comprensoriale di Sansepolcro. Sì, diciamo come al solito c'è un fulgido parterre di eventi che arricchisce il Natale, non sono pochi anche quest'anno, c'è la collettiva d'arte varia della compagnia artistica che quest'anno ha un'esposizione anche più prestigiosa perché non sarà solo nel Palazzo Pretorio ma sarà anche nel Palazzo Pichis Forza, avremo lo sponsor tecnico di Mercurio Promozioni, il prestigioso palazzo diciamo da ospitalità ai pittori locali e non solo come gesto di cordiale sensibilità. Poi ci sono vari concerti, diciamo i concerti nel segnalo qualcuno, per esempio il giorno 19 ci sarà Roberto Toffi e Laura Polverini nell'auditorium di Santa Chiara tra l'altro con un programma di canzoni sotto l'albero veramente splendido. Lo voglio segnalare perché è veramente notevole ma non solo. Il Gospel Festival che ormai tutti i cittadini conoscono, che giunge peraltro alla quindicesima edizione, quest'anno presenta a Sansepolcro i Quiet Place, un gruppo che mi dicono essere tra i più notevoli dell'intero programma retino.